E' stata fissata la data dei funerali dei ragazzi morti nello schianto della Ford Ka contro un albero lungo la strada provinciale 27 a Grignano. Le esequie si terranno sabato alle 15.30 alla chiesa della Commenda a Rovigo. Il sindaco Edoardo Gaffeo domani annuncerà l'uto cittadino. Resta confermata per sabato sera alle 20 anche la fiaccolata organizzata dagli amici dei tre giovani che partirà da Piazza Vittorio Emanuele ed arriverà alla chiesa di San Bortolo. Intanto non è in pericolo di vita il sedicenne che era a bordo della Ford Ka. Le sue condizioni sono gravi ma i medici sono ottimisti. Probabilmente a salvarlo il fatto che avesse la cintura legata promessa che il giovane sembra avesse fatto alla fidanzatina. Dai rilievi della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente emerge che la vettura stesse percorrendo la strada ad alta velocità carambolando prima sul guardrail per poi finire la propria corsa tragicamente su un albero a bordo strada. Il Rovigo Calcio, squadra in cui avevano militato due dei ragazzi scomparsi, ha intanto chiesto che sabato venga rispettato il minuto di silenzio prima della partita di Coppa Veneto contro il Borgo Veneto.